la casa di nonno e nonna romano ciao 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 tutta post funnus my movie stars gonna be on YouTube hello ok here you go oh yeah hold on hold on Prince there you go yeah he is thank you ciao cugini tutti vi voglio bene hello everyone yeah later on più tardi questa è in America thank you for a wonderful time great company I need a translation grazie per mangiare la compagnia famiglia bella famiglia ok ci vediamo on YouTube hey ancora ancora you love me ancora ok chi è quello là chi è quello là io lui chi è io ho perso una cinquanta di peso non lo conosco mangi qualche cosa non mangi un altro cosa ha perso cinquanta di peso mangia ha bisogno di pane cugini adesso come non amaro mangi un po' mangi non è che altro canale att